piccola novità da sempre da samsung qui a barcellona troviamo l'introduzione del galaxy s4 black semplicemente una cover che si adegua a quello che è lo standard ormai di samsung quindi finta pelle immaginiamo sia finta in puntura laterale tutto il resto nero sicuramente aggiunge un look più gradevole più accattivante un aspetto più business più premium per questo smartphone che ormai comunque sembra essere destinato un po alla pensione considerando che è stato presentato sempre qui a barcellona s5 per questo piccolo video un saluto da gabriele per android blog